Soiano del Lago è un territorio veramente molto interessante del bacino gardesano. Oggi Vivere al Garda vuole conoscere questa località e lo fa con il sindaco Paolo Festa. Sindaco, perché Soiano del Lago sempre più diventa un luogo attrattivo per i turisti dell'area gardesana e interessante per chi vuole vivere in questo ambiente nell'ambito della Valtenesi? Sì, quella scommessa che si fa nella Valtenesi, Soiano ha messo tutte le carte in regola per avere questo che lei adesso mi ha proposto. Nel senso che Soiano si vive, Soiano è bello, è la perla della Valtenesi. Per quali motivi? Per questo paesaggio collinare, per il verde incontaminato, per la vista sull'azzurro del Lago di Garda e anche per i prodotti di questa terra? Sono questi i punti di forza di Soiano del Lago? Devono e sono questi in quanto che l'entroterra rispetto al lago è quella piattaforma che deve per forza garantire lo sviluppo del turista, il vivere, il camminare, i prodotti tipici, tutto quello che può essere per salvare e guardare il nostro territorio che è bellissimo. A fianco della vostra amministrazione comunale sente solida la presenza dei cittadini, un coinvolgimento del tessuto sociale e economico per promuovere il territorio e dare vita e benessere ai cittadini? È una sfida molto difficile perché noi abbiamo imbastito anche sulla parte culturale, sulla parte dell'attrattività, su tante cose, ma notiamo che c'è da lavorare ancora di più perché la crisi ha fatto sì che qualcuno si sta un po' lasciando andare e mescolo quello che è il buon mestiere del sindaco a fattori che oggi sono evidenti a tutti. Questa crisi che ha toccato evidentemente un po' tutti gli strati sociali, nonostante ciò la coesione esiste, ci sono le associazioni, ci sono realtà locali, gli stessi cittadini direttamente che si sentono coinvolti anche in azioni di volontariato e a supporto dell'amministrazione comunale. Noto che lei è molto vicino al nostro territorio, sì, anche a Soiano c'è questa volontà. Noi, special modo come amministrazione, abbiamo cercato che tutte le associazioni siano di carattere volontariato e libero, non si sente al collo l'amministrazione se non quello che può fare lo fa tutti i giorni. Possiamo parlare anche di un altro aspetto della sua attività, oltre che sindaco di Soiano del Lago, lei è presidente dell'Unione Comuni della Valtenesi, questo ambito molto importante che comprende cinque amministrazioni comunali unite tra di loro dalla voglia di fare bene, di amministrare il territorio fornendo servizi di primo livello ai cittadini, pur essendo piccole località con pochi abitanti, però che non si sentono secondi a nessuno. Sì, la nostra comunità, special modo io come sindaco Festa, ho sempre costruito questa attività che da 40 anni si parla di Valtenesi, noi come Unione della Valtenesi, che adesso sono diventate quattro i comuni, però con una volontà estrema di fare i servizi migliori serve una coesione. Vogliamo ricordare quali sono i comuni dell'Unione Valtenesi? Manerba, Padenge, Moniga e Soiano. E per questi quattro comuni della Valtenesi quali sono le risorse che riuscite a gestire, quali i servizi attuate in maniera unitaria? Guardi, con grande determinazione tutti i servizi essenziali li abbiamo fatti, abbiamo fatto dal meglio sui rifiuti, il meglio per quanto riguarda la mensa scolastica piuttosto che il pulmino, piuttosto che veramente, adesso la sfida si comincia a essere sul territorio, a livello regionale ci sta improntando cambiamento di consumo del suolo, attività connesse, è veramente importante. Fondere questo servizio del territorialità non basta la nostra Unione, ci vuole la Valtenesi come minimo. Certo, e quindi vuol dire che anche i servizi alla persona, i servizi sociali in generale, trovano attraverso questa realtà sovracomunale una migliore piattaforma di appoggio e di sostegno, anche economico perché non dimentichiamo che le amministrazioni comunali devono far conti ogni anno con i loro magri bilanci, attraverso un'Unione si può gestire al meglio le risorse e qualche volta ottenere anche dei contributi aggiuntivi. Noi siamo testardi, abbiamo difficoltà oggi a fondere, ma fondendo il servizio possiamo sul territorio dare una netta progressività a far sì che siamo insieme. C'è un altro modo di stare insieme che voi avete voluto attuare ed è nella chiave della promozione turistica. I quattro comuni che abbiamo citato sono assieme soci del Consorzio Lago di Garda Lombardia e promuovono questo territorio in maniera simmetrica, senza gelosie, senza campanilismi, dimenticando che in passato ogni comune voleva avere la propria visibilità. Oggi ciò che conta è un territorio che non vede i confini segnati sulla terra ma solo su una carta geografica. Certo, anche lì io facendo sistematicamente dei seminari, degli incontri a livello regionale, il nostro Lago di Garda, il Garda Unico, sono tutte cose che sicuramente vanno valorizzate e credute. Ovviamente ogni paese ha la sua parte. Soiano purtroppo su questo qui non ha una grande festa popolare, ha un insieme di coesione per quanto riguarda estate e inverno, una casa cultura speciale eccetera eccetera. Però si sta sempre più diffondendo una cultura dell'ospitalità fatta anche di agriturismo, fatta di B&B, di turismo con albergo diffuso, modalità che permettono alle famiglie del territorio di trovare una nuova capacità produttiva e di reddito. Sì, questo io non saprò spiegarlo bene come te, però dico questo è il futuro. perché tutto sta andando sull'agricoltura, sulle piccole realtà, attrattività di aziende che si mettono insieme per governare il nostro territorio e per tenerlo così si sta proprio andando sull'agricoltura per produrre la materia più importante che è il mangiare. E quindi anche l'agriturismo diventa una chiave di lettura? L'agriturismo è la cosa più essenziale che possa esistere. Poi noi fortunatamente abbiamo anche l'albergo, abbiamo il Gardagolf, ma tutta quella roba lì da sola non riesce più a sostenere, come noi comune non riusciamo a sostenere delle altre cose. In chiusura, Sindaco, quali sono i prodotti di eccellenza della Valtenesi che voi richiamate quando parlate di agriturismo? Cosa offrite agli ospiti di questo territorio in degustazione perché possono apprezzare non solo l'ambiente, la vista, il panorama, ma anche i sapori del lago di Garda? Io credo che ovviamente il lago dà delle risorse per quanto riguarda l'attività del pescatore, ovvio. L'olio, basta parlare di olio, quando si parla di olio del Garda credo che sia un... La qualità ovviamente è eccelsa. Il vino partiamo dal rosato al gruppello o al Garda classico. Io credo che non ci manca niente se non unire tutto questo qua di far rete, credo sia solo questo il problema. E quindi c'è molto ancora da lavorare per far sì che questo insieme di argomenti importanti su cui fare leva per la promozione turistica diventi sempre più forte, sempre più compreso dagli ospiti, dai visitatori, perché non solo italiani ma anche stranieri possano venire in Val Tenesi, a Soiano del Lago, a gustare questi prodotti e a godere di una qualità della vita che non è seconda a nessun altro territorio d'Italia. Io credo proprio che sia fondamentale. Ovvio che il paese piccolo rispetto al paese grande ha bisogno di quella famosa unità che dico io, non è che noi vogliamo di più degli altri, ma se noi facciamo massa critica che vale sul lago Lombardia su tutte le cose che stiamo per scontare, per portare avanti, sia la nostra possibilità. Qui l'industria è un po' meno, qui l'industria è il turismo. Qui l'industria è un po' meno, 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 qui